Inizieranno a breve i lavori di riqualificazione di piazza salvo d'acquisto nella zona sud di Pescara, 82 mila euro, questo l'importo dei lavori, nascerà una nuova piazza, vice sindaco Blasioli? Sì, una nuova piazza, dopo il lavoro che ormai si è concluso, si concluderà in settimana di Pescara Vecchia, della riqualificazione di Pescara Vecchia, la stessa ditta si dedicherà a piazza salvo d'acquisto. Una riqualificazione di una non piazza, perché attualmente non lo è assolutamente, nonostante il giardino con dei pini cinquantenari che sono adornamento della statua dedicata a salvo d'acquisto, da cui prende il nome appunto questa piazza. Noi la riqualifichiamo, cioè creiamo veramente una piazza con uno spazio pedonale, uno spazio che possa essere centro di aggregazione di famiglie, ma soprattutto di bambini. Tant'è vero che proprio nella pavimentazione di questa nuova piazza noi andremo a disegnare i giochi di una volta, quelli che per tanto tempo ci hanno tenuto noi bambini in strada e che è anche un segnale, cioè quello di far giocare i bambini un po' più per strada, per socializzare tra di loro, per tornare ad essere un po' i bambini di una volta. E tutto sommato anche noi siamo cresciuti bene. Lavori che poi proseguiranno anche in altre zone della città? Sì, intanto questi lavori costano circa 82 mila euro e seguono appunto la riqualificazione di Pescaravecchie che inaugureremo questa settimana. Poi la stessa ditta si sposterà in Via Tibullo e Piazza San Luigi, quindi insomma nelle immediate vicinanze di piazza salvo d'acquisto. Poi la stessa ditta si sposterà in Via Tibullo e Piazza San Luigi, quindi insomma nelle vicinanze di piazza salvo d'acquisto.